In un mondo antico, dove miti e leggende si intrecciavano con la realtà e dove le divinità erano tanto numerose quanto le stelle nel cielo, emerge una storia che ha cambiato il corso della storia umana, una storia di fede, sacrificio e redenzione. Una storia che ha dato origine a una delle religioni più influenti e diffuse del mondo. Benvenuti in questo viaggio attraverso le origini, le sfide e le trasformazioni del cristianesimo. Dallo sfondo delle antiche civiltà, alle figure carismatiche che hanno plasmato la sua dottrina, alle controversie e ai dibattiti che lo hanno definito, esploreremo insieme la straordinaria saga del cristianesimo. Preparatevi a immergervi in un racconto epico di fede e rivelazione. Questo video è stato realizzato in collaborazione con il canale Sapiens Sapiens, che vi invitiamo a visitare per immergervi in contenuti interessanti e di approfondimento sulle tematiche che trattiamo su questo video. Prosegui con noi questo viaggio alla scoperta di una delle religioni più discusse e al contempo affascinanti. Iniziamo! Il cristianesimo, una delle religioni più diffuse al mondo, ha le sue radici nel primo secolo dopo Cristo. Questa religione è nata dalla predicazione di Gesù di Nazareth e dai discepoli che lo avevano conosciuto, come gli apostoli e gli evangelisti Marco e Luca. Paolo di Tarso, dopo la sua conversione, ha svolto un ruolo fondamentale nella fondazione di comunità cristiane, o chiese. Gesù di Nazareth, spesso chiamato Gesù Cristo, è la figura centrale del cristianesimo. La sua vita e i suoi insegnamenti hanno avuto un impatto profondo sulla storia del mondo e continuano a influenzare miliardi di persone in tutto il mondo. Ma chi era realmente Gesù? Gesù nacque in un periodo di grande fermento politico, sociale e religioso nella regione della Palestina, allora sotto il dominio dell'impero romano. Secondo i Vangeli, Gesù nacque a Betlemme da Maria, una giovane donna ebraica, e fu cresciuto a Nazareth, una piccola città nella regione della Galilea. All'età di circa 30 anni, Gesù iniziò il suo ministero pubblico, predicando un messaggio di amore, compassione e giustizia. Ha insegnato l'importanza dell'amore per Dio e per il prossimo e ha enfatizzato la necessità di pentimento e conversione. Attraverso parabole e miracoli ha illustrato i principi del regno di Dio, un regno di giustizia, fratellanza, pace e amore. Gesù ha anche sfidato le convenzioni religiose e sociali del suo tempo. Si è opposto all'ipocrisia religiosa e ha criticato i leader religiosi per la loro ossessione per la legge a scapito della compassione. Ha accolto i peccatori, i malati, le donne e i bambini, gruppi spesso emarginati nella società ebraica del suo tempo. Ha rivolto il suo messaggio in gran parte verso le figure più marginalizzate della società del tempo. Prostitute, ladri, collaborazionisti degli occupanti romani, malfattori, malati e tante altre categorie marginalizzate e considerate non degne. rifare qualcosa per convivere. Ma gliel'ho detto! Cosa volete da me? Gliel'ho detto che Matteo la sanguisuga è un nemico che vorrei veder morto e lui sa che cosa ha detto. Ragione di più perché tu venga. Maestro, è uno scandalo se dividi il pane con questa gente, non lo sai chi sono? Noi siamo fedeli alla parola di Dio, ci sacrifichiamo per rispettare la legge. Ladri, prostitute, usurai, amici dei romani, dei rinnegati. E tu adesso vai a mangiare con questa gente che passa la vita nel fango e nel vizio. Io sono qui per aiutare chi ha peccato, non chi è nel giusto. Le prostitute e i peccatori potranno salvarsi anche prima di voi. Ascolta, maestro, se vai a mangiare a casa di Matteo sarai contaminato. Tutti quanti ti abbandoneranno. Giacomo, il cuore della legge è il perdono. Gesù si rivolgeva verso di loro con lo stesso amore e compassione ed evidenziando che ladri e prostitute avrebbero visto il regno dei cieli prima di quelle persone che la società considerava giuste e timorose. Gesù descriveva un Dio molto diverso da quello rappresentato dall'ebraismo che definiamo Vecchio Testamento, un Dio buono e compassionevole, al contrario di quello narrato dal Vecchio Testamento e professato dalla fede ebraica. Il concetto di vendetta viene sostituito dal perdono. La concezione di giustizia divina viene sostituita dalla compassione e comprensione. Il concetto di un Dio geloso che richiede per sé attenzione e osservanza delle sue volontà viene sostituito con amore fraterno reciproco tra tutti e libero arbitrio per ciascun individuo. Cambiano anche le regole e le leggi imposte, mentre nel Vecchio Testamento sono presenti una grande quantità di regole. Gesù sostanzialmente le sostituisce con un semplice «ama il prossimo tuo come te stesso», creando di fatto un concetto reciproco e indissolubile tra Dio e l'uomo. In pratica, secondo il credo cristiano, non puoi amare Dio se non ami il tuo prossimo e viceversa. «Ma noi sappiamo di essere il popolo eletto. Come può un pagano essere più meritevole di un figlio di Abramo?» «Tutti gli uomini, tutti gli uomini sono benvenuti alla tavola del padre mio. Ricchi, poveri, padroni, servitori, figli di Abramo e figli di pagani». Cambia rivoluzionariamente per il periodo anche il concetto di prossimo. Per l'ebraismo solo i discendenti di Giacobbe sono gli eletti e quindi coloro che Dio riconosce come popolo eletto e quindi un ebreo dovrà assicurare la sua attenzione a un altro ebreo riconoscendolo come unico vero prossimo. Gesù si riferisce a ciascun individuo esistente, indifferentemente da provenienza, credo e discendenza. Altra differenza è la spiritualità. Negli insegnamenti di Gesù il rapporto con Dio è individuale. Tuttavia è importante fare delle precisazioni sull'ebraismo che tratteremo in maniera più approfondita in un video successivo dedicato. Mentre il Vecchio Testamento, o Tanakh, presenta certamente un Dio che punisce e che è geloso, presenta in certi aspetti anche un Dio misericordioso e amorevole. Ad esempio, il Libro dei Salmi è pieno di riferimenti all'amore e alla misericordia di Dio. L'idea del perdono esiste anche nell'ebraismo. Ad esempio, il giorno dell'espiazione, Yom Kippur, è interamente dedicato al pentimento e al perdono. Molte delle idee associate a Gesù hanno radici o paralleli nell'ebraismo. La vera rivoluzione di Gesù è stata nel modo in cui ha interpretato, enfatizzato e ampliato queste idee, evidenziando un rapporto più individuale con Dio e più accentuato con un rapporto padre-figlio piuttosto che divinità-servo. La crescente popolarità di Gesù e i Suoi insegnamenti hanno attirato l'attenzione delle autorità religiose e romane. Visto come una minaccia all'ordine stabilito, fu arrestato, processato e condannato a morte per crocifissione. Tuttavia, i cristiani credono che tre giorni dopo la sua morte, Gesù sia risorto dai morti, sconfiggendo così il peccato e la morte. Questo evento, noto come la resurrezione, è al centro della fede cristiana e viene celebrato ogni anno durante la Pasqua. La vita e gli insegnamenti di Gesù hanno dato origine al cristianesimo, una delle principali religioni mondiali. I Suoi discepoli, in particolare gli apostoli, hanno diffuso il Suo messaggio in tutto il Mediterraneo e oltre. Le lettere di Paolo di Tarso e gli scritti dei Vangeli hanno ulteriormente consolidato e diffuso gli insegnamenti di Gesù. Gesù di Nazareth non è solo la figura centrale del cristianesimo, ma ha anche avuto un impatto duraturo sulla storia e sulla cultura mondiale. La sua enfasi sull'amore, la compassione e la giustizia hanno ispirato innumerevoli movimenti di riforma sociale, arte, letteratura e filosofia attraverso i secoli. Il cristianesimo ha iniziato la sua diffusione da Gerusalemme, espandendosi in tutto il vicino Oriente. Nel IV secolo diverse nazioni adottarono il cristianesimo come religione di Stato, tra cui l'Armenia nel 301, l'Etiopia nel 325, la Georgia nel 337 e infine l'Impero Romano nel 380. Questa religione ha continuato a crescere, diventando dominante in Europa durante il Medioevo e diffondendosi ulteriormente durante il Rinascimento. Durante la sua storia, i cristiani hanno affrontato sia persecuzioni che conflitti interni. Questi conflitti interni, spesso derivati da dispute teologiche, hanno portato alla nascita di diverse chiese distinte. Le principali confessioni del cristianesimo sono la chiesa cattolica romana, la chiesa ortodossa orientale e le varie chiese protestanti. Le origini del cristianesimo possono essere fatte risalire alla predicazione e agli atti di Gesù, che per i suoi seguaci e discepoli rappresentava la realizzazione delle aspettative messianiche presenti nella tradizione ebraica. Dopo la morte di Gesù, il gruppo dei suoi discepoli si riunì a Gerusalemme sotto la guida degli apostoli, formando una comunità di migliaia di ebrei. Un esempio emblematico dell'universalità del messaggio cristiano è il centurione Cornelio. Nonostante fosse un gentile e un ufficiale romano, la sua fede attirò l'attenzione di Pietro, che lo battezzò. Questo episodio, narrato negli Atti degli Apostoli, sottolinea come il cristianesimo non fosse riservato solo agli ebrei, ma fosse un invito aperto a tutti, indipendentemente dalla loro origine o status. Con la conversione del centurione Cornelio iniziò la conversione dei pagani. Questo ha portato a dibattiti sulla loro accettazione all'interno della comunità cristiana, culminando nel concilio di Gerusalemme, che ha deciso di non imporre loro la legge mosaica. Nel contesto del mondo antico, dominato da strutture patriarcali e da una visione della donna spesso subordinata, il cristianesimo primitivo offrì inoltre un panorama sorprendentemente inclusivo e rivoluzionario riguardo al ruolo delle donne. Le donne giocarono un ruolo cruciale fin dai primi giorni del cristianesimo. Nel Nuovo Testamento, donne come Maria Maddalena, Giovanna e Susanna sono descritte come sostenitrici finanziarie di Gesù e dei Suoi discepoli. Maria Maddalena, in particolare, è riconosciuta come la prima testimone della Resurrezione, un fatto di fondamentale importanza teologica. Si deve inoltre precisare, al contrario delle credenze popolari, che Maria Maddalena non era una prostituta e in nessun testo evangelico viene presentata come tale, probabilmente la sua figura, che fu molto importante, venne screditata per ridimensionare il ruolo della donna nel cristianesimo e soprattutto venire accettata come religione in una società, soprattutto quella romana ed europea, che considerava il ruolo della donna molto marginale. Le lettere di Paolo, uno degli apostoli più influenti, menzionano diverse donne che svolgevano ruoli di leadership nelle prime comunità cristiane. Figure come Febe, descritta come diacona e protettrice di Paolo, o Priscilla, che insieme a suo marito Aquila fu maestra di Apollo, sono esempi di donne che avevano ruoli attivi e riconosciuti all'interno della comunità. Le storie di donne come Agata, Cecilia o Blandina, che subirono il martirio per la loro fede, sono testimonianze del coraggio e della determinazione delle prime cristiane. Queste storie erano ampiamente diffuse e venerate nelle prime comunità, sottolineando l'importanza e il rispetto accordato alle donne come testimoni della fede. Tuttavia, nonostante questi esempi positivi, esistevano anche tensioni e limitazioni. Alcune lettere paoline, come quelle ai Corinzi, contengono istruzioni che sembrano limitare il ruolo delle donne, chiedendo loro di rimanere in silenzio nelle assemblee. Bisogna considerare che Paolo era fortemente influenzato e limitato dalla visione ellenica della società. Con l'istituzionalizzazione della Chiesa e la formazione di una gerarchia ecclesiastica più strutturata, il ruolo delle donne divenne più limitato e subordinato. Il cristianesimo primitivo offrì alle donne opportunità e ruoli che erano rivoluzionari per l'epoca. Sebbene ci fossero limitazioni e tensioni e il ruolo delle donne subì cambiamenti e restrizioni nel corso del tempo, le prime cristiane lasciarono un'impronta indelebile sulla storia e sullo sviluppo del cristianesimo. La loro fede, il loro coraggio e la loro leadership sono un ricordo potente dell'importanza delle donne nella fondazione e nella diffusione della fede cristiana. Al fine di far comprendere meglio l'importanza della donna nel primo cristianesimo, basti pensare al ruolo centrale di Maria Madre di Gesù e soprattutto a come vengono rappresentate nei Vangeli. Mentre gli apostoli fuggono impauriti dopo l'arresto e l'uccisione di Gesù, le donne rimangono forti e coraggiose, seguendo Gesù anche nel suo martirio. Inoltre, mentre gli apostoli si mostrano dubbiosi sulla resurrezione di Gesù, le donne non dubitano affatto della sua promessa. Tanto vale che sono proprio loro le prime a testimoniare la sua resurrezione. Anche nei primi decenni esistevano divisioni teologiche e dottrinali all'interno delle comunità cristiane. Queste divisioni potevano portare a conflitti e scismi, come evidenziato dalle diverse interpretazioni dei Vangeli e dalle lettere paoline. Questo argomento lo tratteremo meglio quando parleremo delle fedi nate dal proto-cristianesimo. Il simbolismo ha sempre avuto un ruolo fondamentale nelle religioni, fungendo da ponte tra il mondo materiale e quello spirituale, e il cristianesimo non fa eccezione. Il simbolo del pesce è uno dei primi simboli utilizzati dai cristiani. Questo simbolo, noto come ictis, era un acronimo delle parole greche che tradotto significa Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore. Era un simbolo segreto utilizzato dai primi cristiani per identificarsi tra di loro, specialmente durante i periodi di persecuzione. La croce, d'altra parte, è diventata il simbolo più riconoscibile del cristianesimo. Rappresenta la crocifissione di Gesù e il suo sacrificio per l'umanità. Nonostante la croce fosse inizialmente un simbolo di tortura e morte, è stata adottata dai cristiani come un simbolo di risurrezione e speranza. Durante i primi secoli del cristianesimo, la croce non era comunemente usata come simbolo religioso. Questo era in parte a causa della natura cruenta e vergognosa della crocifissione come metodo di esecuzione. Invece i primi cristiani preferivano usare altri simboli, come il pesce, ictis, l'ancora e il buon pastore. L'adozione della croce come simbolo principale della fede cristiana non avvenne fino al IV secolo, in gran parte grazie all'influenza dell'imperatore Costantino. L'idea di un male assoluto incarnato in una singola entità, come Satana o il diavolo, non era propriamente presente tra i primi cristiani, ma si è sviluppata nel tempo. Il cristianesimo primitivo non aveva una dottrina sistemata del diavolo o del male, ma queste idee si sono consolidate nel corso dei secoli, in particolare nel Medioevo. L'episodio delle tentazioni di Gesù è fortemente simbolico. I 40 giorni di digiuno nel deserto possono essere paragonati ai 40 anni in cui gli ebrei vagarono nel deserto prima di entrare nella terra promessa, come raccontato nel Libro dell'Esodo. Il deserto, privo di vita, rappresenta un'esperienza di avvicinamento alla morte e quindi all'esperienza di Dio. Questo episodio dimostra che, già nei primi Vangeli, c'era un riconoscimento dell'interazione di Gesù con una figura tentatrice o diabolica. Pertanto l'idea di un tentatore o diavolo era presente nei primi insegnamenti cristiani, ma non aveva acquisito una forma assoluta. Per il primo cristianesimo, la spiritualità era individuale e si basava sulle scelte e l'animo di ogni singolo individuo. Le tentazioni fatte dal diavolo mirano a mettere in secondo piano il primato di Dio, sostituendolo con i piaceri carnali, il successo e il potere mondani e l'autonomia dal volere divino. Il cristianesimo si è poi diffuso in tutto l'impero romano, con comunità che si sono formate in città come Roma, Damasco e altre. Paolo di Tarso, con i suoi viaggi missionari e le sue lettere, ha giocato un ruolo cruciale nell'espansione del cristianesimo tra le popolazioni di cultura greca e romana. Dopo la morte di Gesù, infatti, i suoi discepoli iniziarono a diffondere il suo insegnamento. La figura chiave in questa fase iniziale di diffusione fu Paolo di Tarso, con i suoi viaggi missionari e le sue lettere, ha giocato un ruolo cruciale nell'espansione del cristianesimo tra le popolazioni di cultura greca e romana. Paolo stabilì molte comunità cristiane in tutto il Mediterraneo. La diffusione del cristianesimo fu facilitata dalla Pax Romana, che permise viaggi relativamente sicuri e una certa libertà di religione all'interno dell'impero romano. Nella seconda metà del primo secolo iniziò un lavoro di raccolta e organizzazione dei racconti della vita e degli insegnamenti di Gesù, prima tramandati prevalentemente per via orale, che portò alla realizzazione dei testi che prendono il nome di Vangeli. Contestualmente iniziò una selezione che durò decenni, da cui emersero i quattro Vangeli tutt'oggi presenti nel canone della Bibbia, mentre quelli esclusi vennero considerati eretici e apocrifi. I Vangeli sono libri che narrano la vita e la predicazione di Gesù di Nazareth, fondamenta del cristianesimo. La parola Vangelo deriva dal greco euagelion, che significa lieto annunzio o buona notizia. Nel corso dei secoli furono composti molti testi designati come Vangeli, ma solo quattro di questi sono considerati canonici dalle confessioni cristiane, il Vangelo secondo Matteo, il Vangelo secondo Marco, il Vangelo secondo Luca e il Vangelo secondo Giovanni. Gli altri Vangeli sono definiti apocrifi, I Vangeli canonici sono quelli che sono stati accettati come parte del canone della Bibbia e sono considerati ispirati da Dio. Questi Vangeli sono stati scritti tra il primo e il secondo secolo e sono stati accettati dalle chiese cristiane come autentici e affidabili. La scelta di questi Vangeli come canonici è stata influenzata da vari fattori, tra cui la loro antichità, la loro conformità con la tradizione apostolica e la loro accettazione da parte delle comunità cristiane. Il termine apocrifo deriva dal greco e significa nascosto o segreto. I Vangeli apocrifi sono quei Vangeli che non sono stati inclusi nel canone della Bibbia e che non sono considerati autentici o affidabili dalle principali confessioni cristiane. Questi Vangeli sono stati scritti in vari periodi e molti di essi sono stati scoperti solo recentemente. Alcuni di questi Vangeli offrono una visione alternativa della vita e dell'insegnamento di Gesù, mentre altri sono considerati eretici o fuorvianti. La ragione principale per cui questi Vangeli sono stati esclusi dal canone è che non erano conformi alla tradizione apostolica o erano in contrasto con gli insegnamenti delle principali confessioni cristiane. In sintesi, mentre i Vangeli canonici sono considerati la fonte principale di informazioni sulla vita e gli insegnamenti di Gesù e sono accettati come autentici e affidabili dalla maggior parte delle confessioni cristiane, i Vangeli apocrifi offrono una visione alternativa e sono considerati meno affidabili. La scelta dei Vangeli canonici è stata influenzata da vari fattori, tra cui la loro antichità, la loro conformità con la tradizione apostolica e la loro accettazione da parte delle comunità cristiane. Il cristianesimo primitivo, noto anche come chiesa primitiva o paleocristianesimo, descrive l'era storica della religione cristiana fino al primo concilio di Nicea nel 325. Il cristianesimo si diffuse dal Levante, attraverso l'impero romano e oltre. Inizialmente, questa progressione era strettamente connessa ai centri ebraici già stabiliti nella Terra Santa e alla diaspora ebraica. I primi seguaci del cristianesimo erano ebrei convertiti alla fede, ovvero cristiani ebrei. Le sedi apostoliche sostengono di essere state fondate da uno o più degli apostoli di Gesù, che si dice siano dispersi da Gerusalemme poco dopo la crocifissione di Gesù. I primi cristiani si riunivano in piccole case private, note come chiese domestiche. Molti primi cristiani erano mercanti e altri che avevano ragioni pratiche per viaggiare in Nord Africa, Asia Minore, Arabia, i Balcani e altri luoghi. Entro la fine del primo secolo, il cristianesimo si era già diffuso a Roma, Armenia, Grecia e Siria. Le prime comunità cristiane incontrarono l'ostilità del mondo esterno. Le notizie sui primi anni del cristianesimo provengono principalmente dal Nuovo Testamento. Le autorità ebraiche di Gerusalemme avversarono i primi cristiani e tentarono di impedirne la predicazione. Tra le vittime di queste persecuzioni vi furono Stefano, lapidato per blasfemia, e l'apostolo Giacomo il Maggiore, giustiziato dal re Erode Agrippa. Tuttavia, una volta che i cristiani hanno iniziato a distaccarsi dal giudaismo, hanno dovuto confrontarsi con la religione romana. I cristiani erano spesso visti come una minaccia alla Pax Deorum, l'armonia tra gli dèi e i cittadini su cui si basava l'impero romano. Questo ha portato a persecuzioni, la più nota delle quali è stata quella di Nerone nel 64, quando i cristiani furono accusati di aver causato il grande incendio di Roma. Questa persecuzione portò alla morte degli apostoli Pietro e Paolo. I cristiani erano visti con sospetto perché si rifiutavano di compiere i sacrifici agli dèi della religione romana ufficiale. Tuttavia, non furono attivamente perseguitati fino al 250 sotto l'imperatore Decio. Le persecuzioni continuarono fino al 313 quando l'editto di Milano, promulgato da Costantino I, garantì la libertà religiosa ai cristiani. Immergendoci nelle profondità del cristianesimo, scopriamo le catacombe, labirinti sotterranei che raccontano storie di fede e speranza. Queste antiche gallerie, sebbene diffuse in diverse regioni, trovano la loro massima espressione a Roma, cuore pulsante del cristianesimo nascente. Queste intricate reti di tunnel, scavate nel tufo vulcanico, custodivano al loro interno i defunti, riposanti in nicchie o sarcofagi. Ma perché i primi cristiani erano così legati a questi luoghi sotterranei? In tempi di persecuzione, le catacombe erano rifugi segreti, luoghi di rito e preghiera, ma non solo. Rappresentavano la promessa della resurrezione, echi della morte e rinascita di Cristo. All'interno di questi corridoi silenziosi, la comunità cristiana trovava unità e identità, specialmente attorno alle tombe dei martiri, eroi della fede. Questi spazi sacri, più che semplici tombe, erano simboli viventi del coraggio e della determinazione dei primi cristiani. E anche se l'uso delle catacombe come luoghi di sepoltura si è attenuato con la crescente accettazione del cristianesimo, rimangono come monumenti eterni alla resilienza e alla passione di una comunità in crescita. Nel 338, la Persia Sasanide iniziò a perseguitare i cristiani, vedendoli come potenziali traditori a causa della crescente cristianizzazione dell'impero romano. Nel III e IV secolo i Goti, dopo essere stati convertiti al cristianesimo ariano, videro il cristianesimo come una minaccia alla loro cultura e religione, portando a persecuzioni. Le prime comunità cristiane si riunivano regolarmente per pregare e condividere un pasto comunitario. Con l'aumento delle persecuzioni è emerso il culto dei martiri, coloro che avevano sacrificato la loro vita per la fede. Questo culto ha portato alla venerazione dei martiri e alla creazione di luoghi di culto in loro onore. Il cristianesimo ha anche affrontato sfide teologiche, come l'arianesimo, che ha portato al concilio di Nicea nel 325, dove è stata stabilita la dottrina ortodossa della Trinità. Questo concetto rappresenta l'unicità di Dio in tre persone distinte ma inscindibili, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Non si tratta di tre dei separati, ma di un solo Dio in tre manifestazioni, il Padre che crea, il Figlio che redime attraverso la sua incarnazione, morte e resurrezione e lo Spirito Santo che vivifica e guida la Chiesa. Questa dottrina, centrale nel cristianesimo, sottolinea la complessità e la profondità della natura divina e riflette l'amore e la relazione all'interno della divinità stessa. Mentre esploriamo le radici e le evoluzioni del cristianesimo, è impossibile non incrociare i sentieri con altre tradizioni e credenze antiche. Una di queste è il culto di Mitra, una divinità che ha lasciato un segno indelebile nell'antico mondo romano. Sorprendentemente, molte delle storie e dei rituali associati a Mitra presentano straordinarie somiglianze con quelli del cristianesimo. Entrambi sono associati al 25 dicembre, mentre la nascita di Gesù è tradizionalmente celebrata in una stalla o grotta, Mitra emerge da una roccia. Nel culto mitraico, un pasto sacro evoca l'immagine dell'ultima cena cristiana. Entrambe le figure portano con sé storie di sacrificio per la salvezza. Gesù sulla croce e Mitra nel suo atto di uccidere un toro. La domenica, sacra per i cristiani come giorno della resurrezione di Gesù, era anche sacra per i mitraisti, dedicata al sole. E mentre il battesimo cristiano segna l'inizio della vita spirituale, un rito simile esisteva anche nel mitraismo. Tuttavia, le differenze sono altrettanto profonde. Gesù, con le sue radici nel contesto giudaico, predicava l'amore, la carità e il perdono. Mitra, con origini che risalgono alla Persia, era al centro di un culto misterico, popolare tra i soldati romani e meno focalizzato sugli insegnamenti morali. Queste affascinanti similitudini e differenze tra Gesù e Mitra offrono una visione unica nel ricco mosaico religioso dell'antico mondo, mostrando come diverse tradizioni possano intrecciarsi e influenzarsi a vicenda nel corso dei secoli. Tra le molteplici voci spirituali dell'antichità, una risuona con particolare intensità, quella degli Esseni. Sono meglio conosciuti per la loro associazione con i rotoli del Mar Morto, una collezione di manoscritti scoperti tra il 1947 e il 1956 nelle grotte di Qumran, vicino al Mar Morto. Essi offrono un affascinante parallelo con i primi cristiani. Entrambe le comunità vivevano in condivisione, con una profonda dedizione alla preghiera e alla carità. Aspettavano un Messia, pur avendo visioni diverse di questa figura redentrice. E mentre l'acqua purificatrice del battesimo era centrale per entrambi, le loro pratiche e interpretazioni variavano. Ma le differenze sono altrettanto profonde. Gli Esseni cercavano l'isolamento, vivendo lontano dal tumulto del mondo, mentre i primi cristiani erano ardenti evangelizzatori. E mentre gli Esseni erano immersi in aspettative di un'imminente battaglia cosmica, i cristiani ponevano la loro speranza nella resurrezione e nella promessa della vita eterna. Questo affascinante viaggio, attraverso le pratiche e le credenze degli Esseni, ci offre una nuova prospettiva sulle radici del cristianesimo, mostrando come diverse tradizioni possano illuminare e arricchire la nostra comprensione della fede. Nel vasto panorama della storia dell'impero romano, una delle trasformazioni più profonde e durature è stata l'ascesa e l'adozione del cristianesimo come religione dominante. Questa metamorfosi religiosa ha segnato non solo la fine dell'antichità, ma ha anche gettato le basi per l'Europa cristiana che conosciamo oggi. La svolta decisiva è avvenuta nel IV secolo, quando l'imperatore Teodosio ha intrapreso misure radicali a favore del cristianesimo. Con la chiusura dei templi pagani e il divieto dei sacrifici pagani, Teodosio ha stabilito il cristianesimo come religione ufficiale dell'impero romano. Questa decisione non solo ha segnato la fine delle pratiche religiose pagane, ma ha anche consolidato il cristianesimo come forza dominante nel tessuto culturale e spirituale dell'impero. Questo trionfo del cristianesimo non è stato solo un cambiamento religioso, ma ha rappresentato una profonda trasformazione culturale e sociale. L'antico mondo pagano, con la sua moltitudine di dei e riti, ha lasciato il posto a una nuova era, caratterizzata dalla fede in un solo Dio e dalla diffusione dei valori cristiani. Abbiamo viaggiato attraverso secoli esplorando le profondità di una fede che ha toccato innumerevoli cuori e ha plasmato intere civiltà. Dallo splendore e dalle sfide delle prime comunità cristiane alle intricate trame di teologia e tradizione, il cristianesimo continua a essere una forza viva e pulsante nel mondo di oggi. Ma come ogni storia, anche questa non finisce qui. La fede è un viaggio, un percorso in continua evoluzione, alimentato dalle domande e dalle ricerche di ogni generazione. Mentre chiudiamo questo capitolo, vi invitiamo a riflettere, a interrogarvi e a continuare a esplorare le profondità della vostra fede e delle vostre convinzioni. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio, che il vostro percorso sia illuminato dalla conoscenza e dalla comprensione.